La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre vent'anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro, a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Il sogno della Cavese continua. I metelliani tornano a vincere dopo i due pareggi consecutivi in campionato, andando un po' in sofferenza nella ripresa con il Gladiator. Ma nel primo tempo la squadra di Emanuele Troise era stata estremamente convincente. Successo meritato da parte dei Bianco-Blu, che sono ancora primi in classifica in D, anche se hanno due punti di vantaggio sul Barlitta. Queste le immagini di Vittorio Emanuele. La gara a Cavese-Gladiator è preceduta da un omaggio da parte della scuola media statale Balzico alla società Aquilotta, che ha ricevuto un plastico dello stadio Simonetta Lamberti. L'istituto era stato scelto per il ciclo di appuntamenti dall'aula al campo obiettivo fair play e una delegazione di alunni e studenti ha potuto assistere alla gara di ieri gratuitamente. Nei primi minuti la formazione di Troise denota tutta l'intenzione di andare subito a rete e ci riesce al tredicesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione che Aliperta batte dal limite senza che Maresca possa farci nulla. 1-0 per la Cavese. Il Gladiator rischia in contropiede poco dopo, ma Maresca alza in angolo il tiro ravvicinato di Cuomo. Gli ospiti provano a fare gioco nonostante il terreno pesante e al ventiseiesimo Tedesco in pallonetto sfiora il pareggio costringendo Colombo in angolo. Ma al trentesimo arriva il raddoppio. Perde palla Mele, ne approfittano le punte della Cavese, Banegas serve Bubas che di forza infila il pallone del 2-0. Al trentanomesimo realizza anche Foggia che depone in rete il pallone del 3-0 dopo che Maresca non aveva trattenuto il tiro di testa di Bubas. I locali non possono andare però al riposo sul triplo vantaggio perché il Gladiator al secondo minuto di recupero realizza il gol dell'1-3 con Tommy su punizione bellissima calciata da 25 metri. A inizio ripresa la Cavese non riesce a impedire la costruzione del gioco degli avversari avendo speso molto nel primo tempo e il Gladiator prima sfiora la seconda rete con Tommy su altro calcio di punizione e poi la realizza al 51esimo, angolo dello stesso Tommy e dalla mischia sbuca Panaioli che di testa fa centro. Troise prova a irrobustire il centrocampo e il quarto gol arriva al 78esimo, angolo di Gagliardi e colpo di testa vincente di Lomasto che festeggia alla maniera che qui vedete la sua futura paternità. Al primo minuto di recupero Panaioli manda davanti al portiere il nuovo entrato Mancini che non si fa pregare e segna il gol del 3-4 e dopo il pareggio accarezzato soltanto dal Gladiator con Marianelli che sfiora di testa e mette a lato su punizione dello stesso Tommy arriva il gol del definitivo 5-3 della Cavese al quinto di recupero. Gagliardi di prima intenzione lancia Bacio Terracino che riesce a bruciare Maresca e infila il pallone alle sue spalle. Ristabilito il margine di due gol non ci sono più problemi per i metelliani che continuano a viaggiare al primo posto nella Serie D girone H.